Buongiorno, io parlerò nel mio italiano un po' zoppicante, si può dire, però spiego in velocità che cosa sto facendo qui. Oggi la mia idea è di farvi entrare un po' nel mondo dell'arte contemporanea e non da parte di un storico d'arte, però da parte di un curatore che è specializzato a lavorare con artisti viventi. Io sono, come si chiama la donna che fa partorire il bambino che è accanto? Esatto, sì, quello più... Io sono così con la cultura, con l'arte, con le mostre, faccio nascere progetti e oggetti, situazioni, atmosfere. Oggi la mia idea è di farvi entrare un po' in questo ambiente vivendo un momento di arte contemporanea in real time. Voglio parlare, ovviamente, perché l'invito è grazie a questa mostra di Evan Gorga e la sua collezione immensa che avete visto forse già sotto o che andiamo a vedere dopo la mostra. E questo invito di vedere una collezione allestita, tra l'altro, talmente bene e comunicata anche talmente bene attraverso il studio di grafica, attraverso il studio di architettura, grazie ovviamente alla curatela della dottoressa Capodifero e del team curatoriale di ELECTA. Io sono grata di essere in questo contesto perché voi siete vedendo veramente il top dell'allestimento archeologico che c'è. Allora, parlerò di una tendenza di oggi anche di chiamare tutto arte, che non è veramente la mia idea di che cosa è arte, perché secondo me c'è un filo, come è sempre stato, che va passato da grandi artisti a altri grandi artisti. Tanti curatori oggi si sentono come l'artista stesso e fanno enorme mostre dove fanno vedere anche artisti che non sono grandi artisti e le fanno vedere come materia antropologica, più o meno. Forse voi conoscete il fenomeno del Museum of Everything, che è molto frequentato, molto popular, però dà l'idea anche al pubblico generale che non c'è una distinzione fra Michelangelo o Donald Judd e un artista pazzo che abita in una foresta e fa la sua cosa, perché i curatori di questo genere mettono tutto insieme. Io, secondo me, sono molto classica nella mia idea di che cosa è bello. Allora vi presenterò un po' di persone che secondo me sono bravissimi artisti e che producono il motivo di collegamento fra Evan Gorga e la collezione enorme qua e che gli artisti hanno nella loro testa un ordine, anche se vivono qualche volta in modo molto disorganizzato, però la cosa che distingue l'artista è quella capacità di mettere ordine e di seguire un filo interno. Qui ci sono alcuni artisti, Nina Eaton, Richard Merkle, e questo ordine dura decenni, per sempre, e le coinvolge 24 ore per 7 giorni. È una cosa, è un orologio interno che vi faccio vedere un po'. Parlerò delle artisti che ho conosciuto e dei progetti che ho fatto io invece di fare una cosa storica. Parlerò di come questi artisti anche hanno addressed, appellato, no, indrezzato, trattato l'archeologia. Parlerò un po' del ruolo di carta dopo l'età di bronzo e pietra e anche ovviamente il mondo virtuale dopo tutto questo. L'arte contemporanea per me è la finestra al passato e anche voglio dare un tribute a tante donne che sono i custodi del passato perché se uno legge il cartellone sotto nella mostra di Gorga, 80%, non ho fatto il calcolo, però la maggior parte sono donne. Anche a Venezia sono state lì ora al Museo del Vetro. Tutto gestito da donne, i cataloghi che escono. Qui abbiamo dei exceptions, ovviamente. Davide, dialecta, è lì, è il suo collega. Però ho notato, anche parlando con i due stagisti qui dall'Althams, quanto è femminile l'impulso museologico. Alla fine voglio parlare un po' di vita, morte e come la materia diventa arte e storia dell'arte. Questi sono gli artisti che vado a nominare in fretta. Tanti artisti, però nessuno è lì per essere un essere curioso o per divertimento o perché penso, poveraccio, che buffo di mettere un mezzo matto nella mostra. No, sono tutti artisti che secondo me sono grandi artisti e sono in lotta per questa gara di chi esprime le cose vere in miglior modo. e andrò a fare un avanti e dietro con la mostra, con alcune immagini della mostra di Gorga interpellato. Questa è questa tendenza, questo è il Facebook site del Museum of Everything. Io sono apposto all'idea che ogni cosa può essere arte. Secondo me è il solo artisti, un grandissimo artista lo dice. Questa è un'immagine delle trumofrond subito dopo la guerra. Secondo me questa è un po' un'immagine che rappresenta come le donne ricostruiscono la storia. Io personalmente ho avuto un piccolo trumofrond l'anno scorso quando la casa della mia sorella è stata totalmente disastrata dalla tempesta Sandy. E io, idiota, ho messo il mio archivio di 30 anni lì, due mesi prima della tempesta, e ho perso una parte del mio archivio. Questo è l'archivio, l'ho messo in ordine. Il valore delle cose è stato rovinato, però mi sono reso conto di quanto è importante l'ordine rifacendo la storia di questi anni, 30 anni dopo. Questa è un'immagine di un museo a Bucharest, che è stato gestito da un artista, e lui genialmente ha fatto installazioni sculturali di roba quotidiana, storia del design, anche folklore. Lui ha messo tutto, un po' come Brancusi, l'ha fatto con gli oggetti nel museo, che trovo una idea, è uno dei più bei musei che ho mai visto per l'installazione. Questo è un museo per il cowboy, in Wyoming, e lì si vede anche questa tendenza, anche di persone che non sanno, però hanno un'idea di organizzare che alla fine diventa una cosa bella. Però questo non è arte, anche se artisti lo fanno. Una delle migliori conferenze che ho mai sentito era Donald Judd, 30 anni fa, all'NYU Institute of Fine Arts, che era un grande competitore alla mia Università a Columbia, e sono andata lì a sentirlo. Donald Judd, forse per voi tutti un nome conosciuto. Lui per tre ore ha parlato del suo portfoglio finanziario e del suo real estate holdings. Ha parlato solo delle sue proprietà e è andata in dettaglio, facendo vedere quando ha comprato qualcosa, quando l'ha venduto. Erano ore e ore di questo. Alla fine non c'era nessuno rimasto. Era noioso da morire e tutto il pubblico è andato via dopo una mezz'ora già. Adesso c'è il mitos dell'artista e va promosso in mille modi, ma la verità dell'artista non è sempre, e la loro logica per capirla non è sempre evidente. E lui è un grande artista. Questo è un progetto che ho fatto tanti anni fa con Christopher Williams per farlo fotografare un archivio dove lavoravo al Getty Museum. Questo era tipo 87, 88. Questo invece ha influenzato artisti come Candida Hofer che dopo hanno fatto immagini di biblioteche. Adesso Massimo Listri ha fatto un libro sulle biblioteche. Ci sono tanti libri sulle biblioteche. Questo è il mio piccolo contributo alla storia dell'arte. L'ho fatto fare da questo grande fotografo, artista. Questa è una foto che ho fatto io, non è un'opera d'arte, non è una fotografia d'arte, però è la biblioteca di Tobias Reiberga e lui organizza i suoi libri, tutti, o tanti, attraverso colore. Una delle prime persone con cui ho lavorato è Walter Van Bierendonck, che oggi è il direttore dell'Accademia di Moda a Amtwerpen. lui ha questa collezione di bambole e per tanti anni volevo fare qualcosa, fare un libro, eccetera. Il modo in quale l'artista lavora è accumulare, fa quello che fa e poi a un certo punto lo riutilizza e diventa opera d'arte. E questa è la bellissima cosa che succede sempre quando c'è questo piccolo passo dalla pietra all'opera. Ho anche studiato tantissimo come gli artisti organizzano il loro mercato. Ovviamente il mercato è un grande tema sotto nella collezione di Gorga. I grandi artisti sono proprio geni del business e che autoinventano la loro struttura che le aiuta a organizzare, vendere, promuovere, essere. Questo è un disegno fatto da Marcel Duchamp quando lui non aveva i soldi per pagare il dentista. Invece di dare un assegno ha disegnato un assegno e l'ha dato il disegno al dentista che ovviamente l'ha tenuto come un bel scherzo. Questo non si... Forse non leggete però questo è un esempio della tendenza dell'artista di mettere in ordine tutto suo che diventa legge. David Shrigley, grande artista inglese che questi sono i suoi certificati. Questo è per certifichere che X ha un certificato. E poi nella destra sotto c'è official. E lui usa questo per vendere opere di qualunque valore. E questo tiene anche legalmente la nuova frontiera in legge si ispira molto dalla libertà degli artisti in auto-creandosi, auto-organizzandosi. Ho fatto high and low. Ho lavorato anche molto piccolo in provincia di Siena, San Casciano di Bagni. Per dieci anni ho tenuto un piccolissimo spazio dove ho fatto vedere le collezioni di persone nel paese. Ho interpretato l'idea di collezionare in tanti modi. Una installazione installata dall'artista Joseph Kosuf è una collezione di ferro battuto che abbiamo trovato in tutte le mondizie piles of garbage intorno al paese. Abbiamo raccolto tutto insieme e abbiamo valorizzato questi oggetti umili che erano spesso scartati. E questo mi fa pensare alla mostra qui che dipende chi vede la cosa e com'è esposta per determinare se è garbage o è una cosa bella. Ho fatto una mostra di Carla Cardi che ho visto un vaso suo e l'ho chiesto per fare una mostra di quattro vasi. L'allestimento di nuovo era di Joseph. Erano queste bellissime opere e così tutto l'insieme diventava una installazione. Una cosa molto piccola però diventa monumentale se uno lo organizza in un certo modo. Come abbiamo visto qua sotto Alessandra ha detto curiosamente che non importa nemmeno se ci sono falsi nella collezione di Gorga perché la cosa interessante e principale è la maniera in quale lui ha raccolto le cose. Allora il valore il senso di valore è cambiato se uno cambia le termine di che cosa è collezionare. ho lavorato con Mariella Simoni producendo artisti come lei in modi diversi libri. Lei è una bravissima artista italiana che dovrebbe essere tema di una mostra e di un catalogo è una persona fuori le tendenze. Io le manage quanto posso non funziona sempre però è una persona con cui ho lavorato un'altra installazione una collezione di erbe selvatiche che sono scomparse in provincia di Toscana noi abbiamo trovato le piante originali e le abbiamo fatto rivedere a contadini che non le vedono da 50 anni era una delle mie belle mostre. Questo era un progetto con Jonathan Monk che mi piace metterlo qui lui voleva fare autoritratti e fare rovinare il naso da grandi artisti della generazione arte povera. Questo era il progetto e il mio ruolo era di convincere l'artista Emilio Prini di togliere un naso di Jonathan Monk. Siamo riusciti! Zorio l'ha fatto Paolini l'ha fatto diversi artisti grandi hanno fatto questo piacere così funziona l'arte è un ping pong fra grandi nomi è sempre stato così anche al 500 fino ad oggi immagini di un progetto che faccio con una piccola azienda comunicazione curatela Golden Ruler di Nathaniel Mellers io l'ho chiesto di inspirarsi del passato e dell'artigianato lui ha fornito questa immagine è molto diverso ovviamente da un'immagine di questo genere però comunica tutte le stesse cose Heim Steinbach che voi conoscete forse dell'arte contemporanea uno dei più grandi artisti e lui ha trattato questo tema dell'archeologico e come va presentato tante volte in un modo molto complesso mettendo sulle sue mensole molto famose un oggetto che i cani mordano a dog chew sulla destra e poi a sinistra delle cose delle ciclade voi siete archeologi mi dite che cosa è africano o greco or I don't know però antico di sicuro è manufatto la manufattura antica va soprapposto a quelle cose industriali e poi la cosa buffa è che forse l'oggetto sopra la mensola è molto più costoso di un Heim Steinbach però quando è sulla mensola cade in valore e diventa un Heim Steinbach e lui gioca con queste cose buffissime io amo tantissimo il suo lavoro tutti gli artisti che presento oggi le amo e qui si vede di nuovo il confronto quando l'artista tratta l'archeologia quando l'archeologo l'azienda di comunicazione la confronte questa è una piccola opera di Heim Steinbach mettendo una scultura di Degas su un piedistallo come Marcel Duchamp ha messo la ruota sul piedistallo un piccolo cortocircuito molto sintetico che dice tanto sulla storia del design e sulla storia dell'arte altro lavoro di Heim io ho fatto un oggetto con lui che è veramente un libro però lui voleva far vedere la buffa cosa che i libri sono oggetti e questo libro è un'antologia delle oggetti che lui usa prima che diventano opere d'arte e sono le cose del suo cavo no del suo armadio del suo deposito e il modo in quale le mette insieme la sua poesia interna e questa è la cosa buffa che diventa dell'arte che diventa oggetto è fuori design non è design anche se è un commento sul design l'oggetto in sé sembra il design anni 60 però non lo è citta il design questa è un'immagine Arienti è un altro grande artista con cui ho lavorato recentemente lui ha fatto una mostra qui a Salas questa non è una perfetta foto però il lavoro era perfetto una collezione di arte non di arte di musica da tutto il mondo installato come un circolo di tutto ogni continente lui ha fatto un'immagine della musica del mondo usando le cd che lui ha trovato nei anni it's beautiful sarebbe stato un progetto per United Nations è un'antologia di che cosa unisce tutto tutto il mondo senza passaporti o frontiere adesso andiamo alla parte più sexy della conferenza Emilio Prini che è un grande maestro dell'arte povera anche un grande personaggio un grande amico questo è un manifesto lui ha fatto ha sintetizzato questa idea che alla fine la cosa importante è la scelta dell'artista come Duchamp l'ha fatto questo è un certificato suo non in scritta sua che dice tutto è l'artista che è autentica lui abita a Roma tutto di lui è poetico è già un'avventura arrivare alla sua porta e la cosa bella con il lavoro di Emilio e la vita di Emilio che sono talmente interconnected che uno non ha nemmeno il bisogno di creare qualcosa o di produrre qualcosa io lo chiedo di fare un libro e lui mi dice che è sempre stato pronto questo vuol dire che lui l'ha concepito o stava concependolo già 30 anni fa o vuol dire che era pronto ieri è molto elastico la sua idea di tempo abbiamo una grande esperta di Emilio Plini nella stanza qui allora non voglio dire troppo però vi faccio vedere in fretta due immagini e queste non possono essere pubblicate perché sono iper private e non le pubblico e lui mi ammazzerebbe sì sono in pubblica questa è la sua scrivania il progetto che stiamo facendo da 5 anni è un libro che secondo me non andrà mai in pubblicazione questo è un da dietro un po' l'ordine del maestro questa è una delle cose più belle che vedo a Roma il suo divano dove lui fa un allestimento di carte e riviste e inviti e questo è il suo museo e questo rispecchia un po' la sua poesia che trasforma una semplice cosa come questo standard di rame che è una lastra di rame di un metro molto semplice e che è stato per terra sopra un barattolo di olio per tipo sei mesi io l'ho desiderato perché l'avevo chiesto un lavoro su un barattolo di olio e per sei mesi lo dovevo vedere sull'altra parte del suo studio senza che era trasformato in opera d'arte era solo una lastra per terra e poi quando ho visto che ero veramente frustrato lui mi ha fatto questo grande dono di darmelo e il modo in quale l'ha fatto era di metterlo la sua assistente l'ha dovuto metterlo per terra e con il piede l'ha spinto per me durava tipo una mezz'ora fino a che è arrivato e poi ce l'avevo in mano e poi alla fine invece di darmelo a me mi l'ha firmato al mio marito Giuseppe per fare un ultimo piccolo e qui abbiamo una lastra di rame che è trasformata da un semplice materiale però bellissimo perché l'abbiamo guardato sei mesi per capire questa bellezza del rame e del colore in confronto al verde del barattolo di olio di oliva allora io potrei metterlo anche vicino a questo perché questa è arte povera italiana e ha il stesso peso che questa scultura lì se non di più allora questo è il modo in quale l'artista prende un latuge e poi diventa una scultura questo è il miracolo anche del vivere in Italia che io non vi devo raccontare perché lo sapete tutti Manfred Bischoff altro artista il più grande orafo lui abita europeo lui abita modestamente San Casciano e bagna un piccolo posto magico questo è fuori però tutto questo non è il suo questa è la sua macchina adesso facciamo di nuovo il passo dalla vita all'opera queste sono alcune immagini del suo studio vi faccio vedere come ogni angolo è una scultura dove si gira si vede bellezza è un po' come andare alla casa di Twombly o alla casa di ogni grande artista il pistoletto questa è la sua cucina che mi ha commosso anche questo è un ex studio che lui non usa più poi mi ha servito questo radishes come si dice radishes quelle ecco ecco e sono accanto a sculture che lui vende per 100.000 euro di oro perché lui usa solo 22 carati e la cosa buffa è che questo è il catalogo che abbiamo fatto noi 12 anni fa e lui è chiesto di rifare un'opera sta usando le immagini delle sue opere per ricreare altre opere allora il passo immagine oggetto oggetto immagine come voi sapete nel catalogo è un viceversa fra la rappresentazione e l'oggetto in sé qui sta lavorando questi sono alcuni delle piccole oggetti in oro che lui fabbrica come lui le presenta prima che sono in una scatola poi sono fotografate e poi vengono messi in catalogo e tutto diventa un'opera che è la seconda parte dell'opera di realizzare un'opera d'arte e questo processo fra il packaging dell'artista e acchiapparlo a casa e aiutarlo cucinare per loro è quello che faccio come curatore questo è un altro artista Milton Smanetas con chi non è che mi inamoro però mi inamoro dalle artisti è una cosa talmente poetica di capire che cosa sono le loro esigenze e aiutarli a fare qualcosa non è che hanno bisogno di me perché possono trovare sempre qualcuno però io lo faccio con gusto e passione e questo è il mio dono si devo dire questo è un suo studio adesso Günter Föck che è un altro artista adesso passiamo un po' alla parte un po' morte perché lui purtroppo è morto quest'anno io l'ho visitato un anno prima tutti parlano sempre del fatto che lui era alcolista che aveva tanti problemi ha fatto tante cose brutte in pubblico però non importa per niente perché la cosa era organizzatissimo nel lavoro nella maniera di lavorare nell'archivio nella delicatezza in quale faceva cataloghi era una persona splendida pulita etica che non ha niente da fare con gli eccessi che lui o le sue debolezze che lui aveva e lui aveva un ordine di ferro a casa un'altra fortissima Caterina Siverding ho fatto una mostra di lei quando la casa di Goethe mi ha chiesto di fare una mostra con la loro collezione a Weimar e abbiamo fatto una traduzione di che cosa era Goethe lei era molto interessata nella sua collezione di mineralie e dei teschi lui aveva il cosiddetto teschio di Raffaello e lei vedeva nel tempo di Goethe nella sua collezione le origini del nazismo e ha fatto una mostra su questo soggetto utilizzando i frammenti della collezione di Goethe a Weimar perché Goethe aveva così tanti oggetti come Gorga solo di frammenti penso 50.000 o qualcosa piccoli pezzi nella casa qui di nuovo la collezione di Gorga e il vetro e io per la mostra a Weimar avevo gli archivi di Goethe a tutti tutte le sue cose allora sono andata ho potuto fare questa mostra due volte con due artisti diversi la seconda volta ho chiesto Konstantin Grutsic che è il più grande designer industriale tedesco e lui era molto interessato siamo ok o devo chiudere siamo ok lui era interessato come Goethe ha vissuto come si ha pulito le orecchie cosa aveva in tasca come erano le sue pantoffole tutte le cose che uno non vede mai perché il museo era imbarazzato di queste cose le mutande di Goethe non sono in mostra Konstantin è andata a vedere tutte quelle cose un esempio di bottoni del settecento dell'inizio dell'inizio ottocento Konstantin era interessato moltissimo nei bottoni tutte le cose della vita quotidiana piccola ha costruito delle scatole ha fatto costruire delle scatole dove abbiamo messo questi oggetti di Goethe che non sono mai state viste e questa mostra era così molto cheap devo dire molto basso costo scatole di cardboard di cartone con dei fili di luce e poi gli oggetti dentro tutti in vista questo ha girato a Weimar a Roma e a Harvard era una bellissima mostra ecco voi lo conoscete sicuramente ogni design shop ha degli oggetti suoi e poi di nuovo un po' sulla morte come la morte organizza una delle persone più con più occhio che ho mai conosciuto in vita mia è un art dealer musicista artista che si chiamava Achim Kubinski che a dicembre si è tolto la vita e lui ha vissuto in un modo talmente stravagante e fuori le regole che in qualche modo non ha riuscito ad avere il suo giusto ruolo in arte contemporanea Amin si è autodistrutto in modo molto conosciuto però dall'altra parte era un genio che doveva essere valorizzato allora noi dopo la sua morte possiamo finalmente organizzare questa figura di spicco e voi vedete che già nella scelta dei nomi qua e la maniera in quale si fa l'annuncio di morte è già un segno del futuro di questo uomo che ha fatto delle mostre spettacolari a Stoccarda nei anni tardi anni 70 inizio anni 80 e poi sempre e lui mi ha portato insieme con questo artista qui Richard Merkle che per 15 anni non l'ho visto e ci siamo rivisti al funerale ok siamo quasi alla fine altri artisti che non sono più in vita però anche lui era un carissimo amico ha una collezione di piccole bambole dietro questa immagine pescata dall'internet non è mio l'ho trovata attraverso un amico però ho tante lettere di lui e stranamente le lettere sono opere d'arte perché lui scrive solo retro e queste foto erano la sua maniera di fare arte allora lì non c'è un stacco fra la reception e la comunicazione e che cosa è arte e organizzare questo è un lavoro questo è Carith Wyn Evans un altro artista generosissimo io sono stata al suo studio totalmente disorganizzato invece di lavorare lui mi fa sedere per terra e ha preso sperme della balena mi ha chiesto di togliere le calze e mi ha massaggiato per un'ora le gambe eravamo tutti e due seduti piangendo parlando però si può avere questa cosa in Giappone e lui è un grandissimo artista però non si può andare frontalmente all'arte non è che posso chiederlo in modo molto secco di organizzare qualcosa io devo partecipare nella vita per avere delle cose come noi siamo qui per amicizia ovviamente rispetto mutuo però è una cosa di chimica che fa gestire le cose so vi ringrazio per la vostra pazienza è finito questo non sono io però un piccolo cosa poetico e niente se qualcuno ha delle domande io devo fare una foto di questa lastra accanto al marmo grazie tanto alessandra ok grazie Grazie.